Elimina giocatori con armi completamente modificate, come fate sapere se un'arma è completamente modificata? Aprite il menu delle armi, sopra all'immagine dell'arma ci sono 4 quadratini, se tutti e 4 i quadratini hanno all'interno un'immagine significa che l'arma è completamente modificata, come qua sul leggendario, se non avete l'arma così dovete andare al banco dei mod, modificate l'arma completamente, quindi tutti e 4 i quadratini con immagine, adesso per completare l'incarico dovete ancora eliminare 5 avversari.